Buonasera, ancora buona domenica dalla redazione di Icaro Tg. È stata la domenica del saluto di Monsignor Francesco Lambiasi alla sua comunità, la Diocesi di Rimini. Questo pomeriggio in Basilica Cattedrale c'è stata la celebrazione di congedo, una celebrazione significativa in diversi momenti. A seguirla per noi c'era Simona Mulazzani. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i telespettatori di Icaro Tg. Pochi istanti fa è finita qui in Basilica Cattedrale la Santa Messa di ringraziamento per i 15 anni di Episcopato del Vescovo Lambiano, un'assemblea numerosa, la Basilica Cattedrale è gremita per questa Messa di saluto con alcuni momenti molto commoventi, molto toccanti, ma nel segno della festa come anche ha desiderato Monsignor Lambiasi per questa giornata. Tantissimi sacerdoti presenti, circa 120 così come i diaconi, tre i vescovi che hanno concelebrato insieme a Monsignor Lambiasi che ha voluto intessere la sua omelia ricordando proprio il valore del camminare insieme come comunità e in particolare ci ha richiamato al valore di che cosa significhi essere battezzati, ma sentiamo proprio un passaggio dell'omelia. Ora vorrei condividere con voi per l'ultima volta una semplice, ma spero limpida, nutriente riflessione su cosa significhi per noi oggi vivere da battezzati, quindi da cristiani. Brevemente, sostanzialmente possiamo dire che significa essere vivi in Cristo e perciò vivere nella Chiesa come Chiesa. Nell'immaginario collettivo la maggior parte della gente, quando pensa alla Chiesa, purtroppo si immagina un club di persone di alto bordo della terza età che indossa ridicoli vestiti con ampie frange di fronzoli, di pizzi e merletti e si permette di venirci a fare scuola e di dire fino alla noia che cosa dobbiamo o non dobbiamo compiere. No, il cristianesimo non ha a che fare con il lasciar dormire la nonna in santa pace. No, essere battezzati, formare la Chiesa significa essere vivi nella fede, nella carità, nella speranza. E poi ancora Monsignor Lambiasi ha chiuso con una domanda che è stata anche una provocazione, una provocazione chiaramente nella fede perché ci ha chiesto che cosa vogliamo essere e come vogliamo camminare da fedeli. Sentiamolo ancora. Care sorelle e fratelli tutti, permettetemi di congedarmi ora da voi con una domanda e una preghiera. Non vi sembra che se noi abbiamo troppo, troppo poca gioia è perché abbiamo troppo poca fede, troppo poca speranza, troppo poca carità? Ma auguriamoci a vicenda e preghiamo che anche la grazia dell'ormai imminente venuta del carissimo fratello e padre, il Vescovo Nicolò, possa costituire uno stimolo provvidenziale per avanzare sulla strada della nostra conversione. Per questo, ora mi affido alla vostra comunione e a voi e al mio successore assicuro la mia povera, davvero povera, preghiera. Vi saluto con tutto il bene che il Signore mi dona per voi e vi benedico tutti e ciascuno. Grazie, grazie di cuore. L'Eucarestia come segno di questa gratitudine. Proprio dopo la comunione è stato il Vicario Generale Don Maurizio Fabri a tratteggiare una pennellata di questi 15 anni di episcopato, lui stesso l'ha detto, chiaramente non esaustiva, ma ha ricordato tanti elementi che hanno caratterizzato il servizio di Monsignor Lambiasi alla Chiesa riminese, la capacità di fare comunione, l'invito ad essere sempre con lo sguardo fisso su Gesù e legati al messaggio evangelico. Ed è stato proprio lui alla fine a rispondere in modo diverso a come ha fatto per tanti anni alla domanda che gli hanno sempre posto, ma come si fa ad essere Vescovo di Rimini? Allora sentiamolo. Quando mi dicevano ma è facile o difficile fare il Vescovo a Rimini? Io rispondevo è facile perché è impossibile. Volevo dire che se il Signore fa la sua parte allora sì, perché poi il Signore la fa tutta la sua parte. E posso dire allora che da oggi in poi risponderò non è facile perché è impossibile, ma è semplice perché è facile. Perché è Lui davvero. Dicevo ai miei seminaristi quando ero lettore di seminario e venivano magari con qualche perplessità, ma come faccio io a fare il prete, ho tanti limiti. E io rispondevo con la formula biblica, ma se il Signore con una mascella d'asino come me ha fatto tanto bene, cosa non farà con un asino intero come te? L'applauso dell'Assemblea, un applauso caloroso, la commozione, l'emozione del Vescovo che ha salutato le tantissime persone presenti in Basilica Cattedrale. Noi siamo pronti per restituire la linea allo studio, ricordando che anche domani continueremo a parlare di questa giornata di festa. Grazie Maurizio. E grazie a Simona, quindi l'appuntamento ora è per il 22 di gennaio per l'ingresso del nuovo Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. Andiamo a vedere alcune notizie di cronaca dal nostro sito newsrimini.it. Fiamme in una palazzina, i vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti questa mattina alle 5.40 a Sant'Agata Feltria per un incendio che si è sviluppato in un appartamento al primo piano di una palazzina. Nell'incendio c'erano anche i presenti i carabinieri e il personale sanitario del 118 che ha accompagnato tre persone in ospedale per accertamenti a seguito appunto di inalazione da fumo. Questa mattina intorno alle 8 tra i caselli della 14, Valle del Rubicone e Rimini Nord in direzione Ancona un'auto ha perso il controllo ed è uscita fuori strada dopo aver abbattuto il guardrail e si è ribaltata rimanendo in bilico sul ciglio di un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cesena e una squadra di Savignano che hanno liberato dalle lamiere le due persone a bordo. I due feriti sono stati portati in ospedale dal 118 in condizioni non gravi. Per i rilievi e la gestione del traffico, che non ha subito comunque particolari ripercussioni, è intervenuta la polstrada. E parliamo del derby tra Cesena e Rimini. Il derby, che è stato l'altro evento di questa domenica, che ha avuto però un brutto prologo. Questa mattina ci sono stati violenti scontri tra tifoserie opposte sulla via Cesenatico all'altezza di Ponte Pietra. Poco dopo mezzogiorno degli ultras riminesi arrivati in auto si sono incrociati con dei colleghi cesenati nel centro abitato. I contendenti, erano diverse decine, si sono affrontati a colpi di spranga prima di essere messi in fuga dall'intervento della polizia. In diversi si sarebbero fatti male, ma non risultano comunque feriti gravi. La Digos, nonostante il fuggifuggi, è riuscita però a identificare alcuni dei partecipanti e proseguono le indagini anche cercando elementi dalle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Per quanto riguarda invece il verdetto del campo, un verdetto amaro per i biancorossi, come era già stato all'andata al Romeo Neri, una beffa che è arrivata per la squadra di Gaburro nel finale. Vediamo come è andata al Manuzzi. Terzo derby stagionale tra Rimini e Cesena, il primo a loro gel stadium. Finora il bilancio è in perfetta parità con i bianconeri vittoriosi al neri nella seconda giornata di campionato ed i biancorossi che si sono rifatti nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I ragazzi di Toscano sono terzi in classifica con 38 punti, sette in più degli ospiti, noni. Per la prima volta Mr. Gaburro può contare sull'intera rosa, arricchita dall'arrivo in settimana dell'attaccante Mattia Rossetti. Galeotti confermato tra i pali, in attacco Gabbianelli, Vano e Santini. Prima del calcio d'inizio è osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli. Il primo tiro della partita è di Ferrante, che al quinto riceve in area calcia, Galeotti blocca sicuro. All'undicesimo Rossetti in avanti per Vano, che tocca per Gabbianelli, assist al bacio per lo stesso Vano, che a tu per tu con tozzo spedisce incredibilmente fuori. Al ventiseiesimo Calderoni prova a risolvere un batti e ribatti in area dopo il tocco di Ferrante, ma la sua conclusione manda la sfera tra le braccia di Galeotti. Al ventottesimo Zecca per Bianchi, che controlla e calcia di destro, sfera fuori bersaglio. Al trentacinquesimo, sugli sviluppi del secondo corner delle Rimini, scatta il contropiede del Cesena, con Corazza, che si fa oltre 50 metri palla al piede. Gli subentra Brambilla, che mette al centro per lo stesso Corazza, che non trova il bersaglio. Al trentaseiesimo, il tiro di Santini è ribattuto, forse con un braccio da Mercadante. Sul proseguo dell'azione, la conclusione di Regine è deviata in angolo. Al quarantatresimo, il secondo corner per il Cesena. Batte Brambilla, colpo di testa di Prestia e parata di Galeotti. Si va all'intervallo sullo 0-0. Al quarto della ripresa, bella azione di Padroni di casa. Bianchi controlla e calcia, ma ci vuole altro per superare Galeotti. All'ottavo, Ferrante per Corazza, che allarga per Zecca. Tanasa rischia l'autorete, ma Galeotti si salva distinto. Al ventesimo, Ferrante va la battuta. Galeotti blocca sicuro. Al ventiduesimo, cross di De Rose e colpo di testa di Corazza. Il portiere dei Biancorossi blocca ancora. Al venticinquesimo, Delcarro per Santini, che sfodere il diagonale, largo. Un minuto dopo, brecca di Adamo, che serve Steven Spendi. Il numero 11, Bianconero, si libera in area. Il suo tiro è ribattuto da Panelli, poi Matteo Rossetti allontana. Al trentunesimo, il primo squillo di Gabbianelli, che calcia. Tozzo devia in angolo. Al trentanovesimo, Chiarello da calcio piazzato, trova in area Prestia. La cui girata, deviata da Santini, diventa imparabile per il portiere Biancorosso. È il gol partita. L'ultima occasione per Delcarro, che sugli sviluppi del settimo corner ospite controlla e calcia oltre la traversa. Subito dopo, arriva il triplice fischio. Finisce come all'andata. 1-0 per il Cesena, che sa la quota 41 in classifica. I Biancorossi restano a 31. Per il Rimini, prossimo in casa, con Lentella. E come abbiamo sentito da Roberto Bonfantini, con questa sconfitta, Rimini rimane a 31 punti a centro classifica. Il Cesena, invece, balfa 41 punti al secondo posto dietro la Reggiana, saldamente al comando con 46. Andiamo a vedere dalla domenica calcistica altri risultati. Siamo al girone D del campionato di Lettanti. Un ritorno in campo un po', diciamo così, difficile per lo United Riccione, che ha perso in casa 4-1 con la Pistoiese. Quindi una gara a senso unico, Pistoiese, seconda in classifica, a 36 punti, col Forlì, anche se in testa c'è in fuga il Gianna Erminio con 47. Lo United Riccione resta a 25 punti, proprio sopra le zone che, diciamo così, scottano un po' di più. Nel campionato di eccellenza, girone B, Cattolica Calcio, Bentivoglio, 2-3. Quindi anche qui un turno amaro per i giallorossi. Tropical Coriano Savignanese, 1-1, così il finale del derby. Mentre ancora una vittoria per il Victor San Marino, 2-1 sulla Comacchiese. Victor San Marino, che resta in vetta con 48 punti davanti al Russi con 45. La Savignanese ne ha 38, il Tropical Coriano ne ha 28, mentre il Cattolica Calcio resta ancora nei bassi fondi con 11 punti. Parliamo anche di volley, il ritorno in campo per la OMAG San Giovanni Marignano. Niente da fare con la corazzata del Roma Volley Club. Finisce 0-3, 14-25, 21-25, 15-25. Quei parziali a favore delle capitoline che restano imbattute, quindi assaldamente al comando del campionato di Serie A2. In chiusura diamo anche un'occhiata al meteo. Oggi forte vento, vento che ci sarà anche domani, in particolare sulle zone collinari della provincia di Rimini. Per quanto riguarda le previsioni, è possibile qualche goccia di pioggia, soprattutto nel mattino, sia sulla costa che in collina. Poi nel pomeriggio un rasserenamento sulla costa, mentre ancora cielo perturbato in collina. E poi la sera dovrebbero esaurirsi comunque queste precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, ancora ampiamente sopra le medie del periodo 9 gradi. Domani sulla costa molti gradi in più rispetto alla media. 13 la temperatura, 9 gradi la minima, 13 la temperatura massima, quasi il doppio della media del periodo. Anche sui ridievi ci sono minime di 7 gradi e massime di 10. Quindi diciamo giornate ancora non gelide. Questo per quanto riguarda il meteo. Vi ricordo anche questa sera alle 20.35 su Icaro TV l'appuntamento con il basket. Con la gara di RBR contro 100 al Flaminio. Vi ricordo anche i nostri appuntamenti con l'informazione quotidiana. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8.30 il TG del mattino. Poi dalle 9 gli approfondimenti e le interviste di Tempo Reale. E i nostri TG su Icaro TV tutte le sere alle 19.15. e 20.15 oltre al nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione. Ancora l'augurio di una buona domenica. Ancora l'augurio di una buona domenica.